Ho ucciso un principio, un libro che ripercorre la storia di Gaetano Bresci, l'anarchico che venne in Italia per uccidere Umberto I. In realtà è una storia che ripercorre anche un periodo molto difficile per l'Italia, un periodo di profonda crisi sociale e anche ripercorre la storia del movimento libertario di cui Bresci è un esponente. Si è trattato un po' di incrociare il dato puramente storico con quello che riguarda più intimamente la persona Gaetano Bresci, quindi non solo il personaggio passato alla storia ma anche la persona. Ho ucciso un principio è una delle prime dichiarazioni che fece Gaetano Bresci quando venne sottratto al linciaggio, arrestato e quindi interrogato. Ho inteso uccidere un principio, non la persona di Umberto I. Il principio era quello della gerarchia e dell'autorità che in quel periodo storico in Italia significava soprattutto reprimere con i fucili e con le armi le proteste sociali, le rivolte cosiddette dello stomaco. Ci sono infatti due aspetti, il primo è il tentativo di cancellare la storia di una persona attraverso proprio la cancellazione metodica delle tracce che lo Stato stesso ha lasciato attraverso le schede, le schedature e gli archivi. Molte delle carte su Bresci sono sparite, il tentativo è stato quello di farlo impazzire in carcere, cosa che non riuscì e forse è anche il motivo per cui Bresci di fatto venne ucciso nella cella dell'ergastolo di Santo Stefano. Poi c'è una storia parallela, quella della memoria tramandata dagli ambienti anarchici in primo luogo di Patterson negli Stati Uniti e fu quello di Bresci un nome che passò velocemente oltre l'oceano dall'Italia, passò di bocca in bocca e alimentò una forma diciamo di leggenda intorno al personaggio, ecco perché è bello anche raccontare in un libro ciò che è stato Gaetano Bresci in quanto essere umano, in quanto persona. Pubblico con l'Eutra perché è una casa editrice che ho imparato ad apprezzare negli anni prima come lettore che come autore e ne sono stato onorato di questa pubblicazione anche perché poi c'è stato un vero e proprio incontro con l'editore perché è stata una richiesta dell'editore riguardante un personaggio come era sempre incuriosito e affascinato e quindi l'incontro è stato davvero diciamo spontaneo.